e benvenuti ancora amici cripto curiosi andiamo a vedere le tre principali meme sull'ecosistema solana ovvero dog with at bonk bonk ragazzi e book of meme ovvero bome che cosa sta succedendo su questi asset ragazzi quale sarà il prossimo veramente che potrà esplodere siamo sull'ecosistema solana sono diciamo secondo me i tre meme più importanti in questo momento su quest'ecosistema ma prima di iniziare ragazzi vi voglio ricordare il link del gruppo telegram in descrizione ragazzi venite è gratis lasciate un bel like gratis anche questo iscrivetevi al canale e vi lascio in descrizione link degli exchange che uso io tra cui c'è mxc che si può utilizzare ancora senza che si è fare delle operazioni di trading se no bit get by bit andiamo subito ragazzi partiamo prima con bonk andiamo diciamo per la media della capitalizzazione del mercato rispetto a dog with at e bome siamo al cinquantonesi cinquantanovesimo posto abbiamo un volume nelle ultime 24 ore che aumentato del quasi 20 per cento parliamo di 200 milioni di dollari qui naturalmente sappiamo max supply e quant'altro andiamo a vedere bonk l'adozione bonk sui old dress ragazzi che da aprile dal 10 aprile è aumentata sempre di più quindi abbiamo gli holding address che sono sempre aumentati di piccola percentuale fino arrivare alla giornata di oggi il 9 maggio per un totale di address di 720.347 abbiamo il principale address che contiene 11 miliardi 460 11 bilioni scusate 462 miliardi 502 milioni 421.681 bonk ovvero equivale all'11 16,46 per cento il totale poi abbiamo quest'altro indirizzo con il 6,54 per cento poi a seguire il 3,30 2,69 gli altri l'un per cento e percentuali che si attestano intorno allo 05 se andiamo a vedere bonk ragazzi avevamo fatto sul precedente video eravamo andati un attimo a vedere in sostanza questo triangolo che si era ben formato qui ragazzi rigettato il prezzo qui in questa zona qua ragazzi e naturalmente ha fatto un fake out come la previsione precedente che avevo fatto è andato effettivamente a rompere questa trend line qui ragazzi portandosi a casa un diciamo ecco qui un 38 per cento ora sembra che il prezzo naturalmente sia in questa fase qui di congestione possiamo dirlo chiusura di candela di incertezza riguardo ieri e oggi siamo in positivo ad ora ok in sostanza questo è abbiamo zone di supporto importanti per bonk ovvero questa zona quadro 0,000010 ok quindi dei 10 millesimi centesimi e naturalmente abbiamo questa zona qua di forte resistenza del 38 millesimi di centesimo ok in sostanza ora il prezzo sta lateralizzando in questa fascia qui e andremo a vedere nelle prossime giornate cosa succederà intanto andiamo nel sito di bonk ragazzi che è stato rinnovato ci in sostanza questo questa meme ha diciamo trova delle utilità c'è lo bonk bonk swap ok possiamo mettere possiamo swappare gli asset possiamo partecipare alla liquidity possiamo mettere in stake i nostri bonk il dca e dca che è un pacco ok di investimento e abbiamo tutte quante le altre app riguardo bonk quindi molto interessante perché è un vero e proprio ecosistema quindi effettivamente fino a poco tempo fa diciamo il sito non era neanche così ben fatto e non c'erano queste utility cosa molto buona per questo asset andiamo avanti passiamo a book of mem bome ad ora un prezzo dello 0,0 10 ovvero ne ha totalizzato nell'ultima giornata diciamo che il prezzo sta lateralizzando nell'ultima settimana un 12 quasi un 13 per cento sul gain market cap 101 la carica di 101 centunesimo posto con volumi che sono diminuiti del 3,11 per cento stiamo parlando comunque di volumi che si avvicinano ad ora ai 200 milioni di dollari andiamo a vedere l'adozione riguardo bome e vediamo anche qui c'è stata una grossa adozione riguardo gli orders di bome intorno a fine aprile la settimana che va dal da 42 settimane al 14 aprile fino al 24 aprile in sostanza ora gli indirizzi stanno crementa in crescita ma è decrementato l'ultima giornata di un di pochettino comunque stiamo parlando di 78 mila e 422 wallet address abbiamo questo wallet address ragazzi che ne detiene il 52,63 per cento quindi una grossissima whale ragazzi veramente una grossissima whale ovvero detiene 36 miliardi 316 milioni 573 mila 479 bome ok quindi tutti gli altri indirizzi ragazzi tranne questo il 5,28 per cento il 3,68 per cento tutti gli altri sono al di sotto quello che si sta creando su bome ragazzi è in sostanza questo diciamo possiamo chiamarlo questo channel qui che praticamente trova una forte resistenza che si è creata allo 0,012 e poi abbiamo questo supporto della soia dello 0,008 che ha ritestato qui in questa fase poi il prezzo è stato ricettato ha ritestato anche qui ed ora sembra comunque sia che stia andando a formare diciamo questo channel andiamolo a vedere ecco qui questo channel o triangolo che magari nelle prossime giornate potrebbe andare a rompere questa zona di resistenza ok e trovarci il prezzo su queste soglie qui abbiamo anche una forte zona di resistenza lo 0,017 in questa fase qui sul sito di bome ragazzi sito non so se l'avete mai visto insomma non molto ben fatto passiamo all'ultima ragazzi dog with hat nell'ultima giornata ha perso quasi un 2 per cento nelle ultime 24 ore volume calato drasticamente del 34,17 per cento stiamo parlando comunque di volumi dei 378 milioni di dollari su questo asset e andiamo anche qui a vedere gli holders di questo asset ragazzi qui sono partiti veramente a detenere questo token da fin aprile fino ad oggi parliamo ad oggi di 136 mila indirizzi tra cui l'indirizzo più grande del 15 49 per cento ovvero con un totale di 154 mila 756 573 token poi abbiamo questo indirizzo 4,74 per cento a seguire il 2 per cento l'1 per cento fino per quanto riguarda wifi ha creato questo channel qui ragazzi come ben vediamo che in sostanza per chi ha saputo seguire questo trend è riuscito magari aprire posizioni in buy qui e posizioni in sell qua poi andare a acquistare in sale qua quindi channel molto diciamo interessante per fare un trading abbastanza tranquillo ora abbiamo questa zona di resistenza da risuperare dei 3 dollari ok zona che era di supporto prima è diventata ora di resistenza poi abbiamo una grossa zona di supporto che del 2,2 dollari ok in sostanza il prezzo ora naturalmente se fare fa un ritracciamento sano e stare dentro al channel comunque sia c'è la possibilità di rivedere il prezzo di wif in queste zone qui poi abbiamo un'altra zona di resistenza al intorno ai 4 dollari 4,2 dollari andiamo a vedere un attimo il sito di wif ragazzi semplicissimo l'abbiamo visto già altre volte qui possiamo andare direttamente a fare il buy del token su jupiter e qui ci riporta ecco qui sì direttamente qui sul sito e quant'altro fatemi sapere ragazzi nei commenti siamo arrivati alla fine vi ricordo il canale telegram in descrizione noi ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video ciao a tutti